Un'aula grimita di imprenditori, associazioni e rappresentanti delle istituzioni e delle forze dell'ordine ha partecipato al convegno Pomezia internazionale dall'agricoltura all'industria e il futuro della città che si è tenuto nel complesso Selva dei Pini, un incontro per gettare le basi per il rilancio del comune pometino. Pomezia ha attività produttive, voglia di fare, mi dà sempre grande soddisfazione, la città risponde, è effervescente. Stiamo lavorando su un protocollo di intesa con un'industria, in più stiamo lavorando con un protocollo di intesa con il Diretti, con l'agricoltura, stiamo elaborando dei sistemi che possano attenzionare questo territorio sia nella produzione che anche nella trasformazione. La sburocratizzazione è uno dei punti principali del programma di governo. Oggi questo convegno è fatto proprio apposta per far sì che Pomezia possa rilanciarsi attraverso non solo il reparto agroalimentare, c'è tutto il settore ittico per esempio che va trovata una soluzione perché è un peccato che Pomezia attraverso forse uno dei più bei litorali che ha non è sviluppato il settore ittico, un progetto importante che vuole far diventare tra l'altro Pomezia anche una sede base logistica perché occorre internazionalizzarla. E proprio durante il convegno l'assessore regionale Giancarlo Righini ha annunciato un incremento di fondi per il bando destinato all'internazionalizzazione delle imprese che nel 2024 arriveranno a 20 milioni di euro. È un cosiddetto piano di internazionalizzazione che prevede dei fondi attraverso la formula del bonus, c'è un bando a cui le aziende possono fare riferimento. L'idea è quella di dotare le imprese di risorse che consentano poi a queste imprese di partecipare a manifestazioni fieristiche nazionali e internazionali, di partecipare a tutti quegli eventi che li avvicinano ai mercati. Non vogliamo più ricorrere al debito, non vogliamo svendere niente del nostro tessuto economico, ma vogliamo riequilibrare la ricchezza creandola e quindi investendo sulle imprese e sugli imprenditori, proteggendoli, semplificando le norme, aiutandoli nell'export e aiutandoli ovviamente anche nel consumo interno di prodotti di qualità perché l'Italia è la nazione della qualità, sulla quantità perdiamo sempre e sulla qualità non perdiamo mai.